Come mai? I giornalisti non lo sanno. Tutti gli altri lo sanno. No, aspettavamo l'andata proprio esatto. Sono i tarragi. Una foto ancora. Eminenza da questa parte. Eminenza? Eminenza? Un giro, un giro, un giro, un giro. Un giro, un giro, un giro, un giro. Un giro, un giro, un giro.